Siamo in uno stato d'agitazione, uno stato d'agitazione che oggi ha trovato il punto. Siamo arrivati al capolinea, quindi i dipendenti in questo momento non riescono più a gestire la situazione. Ammonta 3.764.000 euro il credito che la DECA, la società che gestisce la piattaforma depurativa del Lametino, attende dal solo comune di Lamezia Terme, ma neanche gli altri comuni per i quali presta servizio stanno rispettando i termini dell'accordo firmato per la depurazione. Nel 2010 in 5, Lamezia, Gizzeria, Falerna, Filadelfia e Curinga si impegnarono in una convenzione che prevede che i tributi vadano al Corap che poi gli dovrebbe girare la DECA. Ma ad oggi tutti e cinque i comuni sono morosi, i dipendenti della piattaforma non vengono pagati da tre mesi e sono in stato di agitazione. Ci si chiede ma come mai se un cittadino non paga le tasse e vengono subito attivate le procedure per quanto riguarda l'emorosità e per quanto riguarda i comuni non è la stessa identica cosa? Un cane che si morde la coda da tempo, quello della piattaforma depurativa Lametina, un sistema che evidentemente non funziona. Se i comuni non pagano i tributi la società non può versare gli stipendi ai dipendenti e così ogni mese decine di famiglie rischiano il tracollo. Come Will Trasporti denunciamo questo ulteriore tracollo finanziario, un tracollo finanziario che non può essere più gestito in questa maniera. Tiziana Bagnato per la CNews24